Ciao a tutti, questa qua appunto è la sila che abbiamo scelto per Ettore, visto che Ettore si occupa di cose celtiche, però abbiamo già qua recuperato la sila, abbiamo trovato noi una sila, è la marcia di Brian Boru, che è un mitico personaggio irlandese, un gigante se non sbaglio, e questa appunto è quella fatta dai Blue Daxi, si chiama appunto Brian Boru. Come sapete appunto Ettore è qua per parlare del mondo celtico, prima di partire diamo un po' gli appuntamenti. Domani sera c'è il Venetian Pagan Mut a Montagotto Terme, ore 21, pub in Bolk, c'è un tavolo prenotato, ci sarà anche Ettore, c'è chi vuole conoscere Ettore di persona fuori dalla radio, vuole appunto parlare delle realtà del mondo celtico, visto che non è un incontro organizzato, visto che non è una conferenza, ma si può parlare liberamente, se qualche ascoltatore vuole conoscere Ettore ha la possibilità di conoscere appunto questo incontro, perciò l'appuntamento è domani sera, Montegrotto, pub in Bolk, alle ore 21, noi saremo un punto presenti. Io ricordo poi la manifestazione in difesa della legge 194 a Milano, sabato 14 gennaio, alle ore 14, piazzale della stazione centrale, poi si parte per la manifestazione. Chi ha la possibilità di andarsi, benissimo, ci partecipi perché merita e ha senso manifestare in questo caso. Ultimo appuntamento e poi lascio la parola appunto a Ettore, il sabato 28 gennaio, alle ore 20 e 30, sala Radio Gamma 5, Claudio Simeoni, tra il dibattito sul colgiolo dello stregone. Bene, Ettore, a te. Bene, buonasera a tutti, che Dea Riti alla Dea di Veneti Antichi vi porti salute e abbondanza. Io non mi resta che ringraziare Francesco, Radio Gamma 5, per lo spazio dedicatomi un po' alle tematiche che io di solito cerco di portare avanti, portare a conoscenza magari gente che non conosce la realtà celtica nella forma sia spirituale, culturale e storica. Questa sera mi sono preparato alcune cose per quanto riguarda un po' la simbologia dell'abete e poi per quanto riguarda le quattro festività in cui i celti erano molto legati, che è Imbolc, Lunasa, Lunasad e Samain. Ecco, io volevo così iniziare con la simbologia dell'abete, visto che sono passati pochi giorni che penso che in molte case abbiano chi ha decorato la casa con la simbologia natalizia, che però comunque adesso vi spiegherò un attimino che tutta questa cosa non deriva praticamente da un percorso cristiano, ma bensì da un percorso diverso, che poi purtroppo come in tante altre occasioni il cristianesimo si è appropriato di tutta una simbologia e spiritualità celtica. Visto che è uno dei simboli più diffusi e importanti del Natale, ormai prossimo, è senz'altro l'albero di Natale, ovvero l'abete. Tra l'altro, anche esso simbolo derubato impunemente dai cristiani, ma chiaramente di origine pagana, simbolo legato proprio alla notte più lunga dell'anno, il sostizio d'inverno. Ma che cosa rappresenta realmente l'abete? L'abete, nelle tradizioni, quando si parla di alberi sacri, il pensiero va subito agli alberi decidui, come la quercia, il faggio o il frassino. Ciò è dovuto al fatto che i boschi sacri dell'antichità erano composti in modo predominante da questi alberi, senza contare l'immaginario ormai radicato dal druido abbinato alla quercia e al vischio. Ma è altrettanto vero che alberi sempreverdi sono sempre stati al centro di un fortissimo culto, e l'abete è senz'altro un esempio. La sua caratteristica di albero sempreverde, non soggetto al ciclo di morte e rinascita degli altri alberi, fa sì che sia sempre stato associato alla vita. Esso rappresenta una premessa di vita eterna, una luce all'interno del buio invernale, e come tale anche un simbolo di fertilità, ed è in alcune zone del nord Europa patrocina le nascite. Per quanto sua promessa di vita eterna e di luce nel buio, viene associato alla notte più lunga dell'anno. Nei giorni prossimi, al sostizio, vi era l'usanza di andare nel bosco e tagliare un giovane abete, il quale veniva adobato con ghirlande, uovo colorate, dolci e altre lecornie, a ricordare la fertilità e l'abbondanza che verranno. Candele e luci a simboleggiare le energie celesti. Gli antichi greci dedicarono l'abete a Poseidone, dio del mare, ma più che un altro motivo è che si utilizzavano tronchi di abete per gli alberi delle navi, e anche in qualche modo un rapporto tra Poseidone e l'abete c'è, viene raccontato da Ovidio, il quale la fa risalire ai tempi eroici della guerra di Troia. Tale storia narra di Elate, una dea lunare chiamata anche Cenide, la luna nuova, venerata dai lapiti, antica popolazione selvaggia della Tessaglia, il cui nome Elate è anche il nome dell'abete in greco. Elate è il nome dell'abete in greco. Questa dea, figlia di Corono, il Corvo, fu violentata da Poseidone, il quale però fu predo dal rimosso, e per cercare di riparare il torto fatto, propose ad Elate di esprimere un desiderio. E la stanca della sua condizione femminile, che gli era appena costata uno stupro, chiese di essere trasformata in uomo. Poseidone acconsetì, trasformandola in un invincibile guerriero, di nome Ceneo, tanto valoroso in battaglia, che i lapiti lo elessero loro re. E una volta assunta questa carica, esaltato dalle vittorie, piantò una lancia nel terreno, probabilmente un abete, ordinò al popolo di venerarla come unica divinità. La cosa fesse addirare Zeus, che scagliò contro Ceneo e i centauri, e tutti i nemici dei lapiti, ma egli era protetto da incantesimi e riuscì a sconfingerli tutti. I pochi superstiti vennero informati da Zeus che l'unico modo di ucciderlo era farlo tramite gli alberi. Così tornarono all'attacco e dopo aver sradicato degli abeti, lo seppellirono sotto i tronchi, soffocandolo. Con la morte di Ceneo, il corpo riprese le originali sembianze di Elate. Può sembrare strano che l'abete, piuttosto raro in Grecia, la cui presenza si attesta solo in alta montagna, ai confini nord-occidentali, sia stato oggetto di culto, oltre al legame con Poseidone ed Elate, che è di origine chiaramente pre-elenistica e che probabilmente descrive proprio lo scontro i greci adoratori di Zeus e i lapiti. bellicose popolazioni pre-esistenti. Si attesta anche con la figura di Artemide nel suo aspetto silvano. Essa è una dea lunare e della vita selvaggia, protettrice delle donne e sovraintendente dei parti. Artemide, come Apollo, ha anche un'origine iperborea, il che spiegherebbe il culto dell'abete in una regione in cui è piuttosto raro. Anche le credenze relative all'abete sono uguali a quelle presenti nel nord Europa, dove viene considerato l'albero della vita, collegato al giorno dopo il sostizio d'inverno, quando il bambino divino viene alla luce dal buio invernale che aveva raggiunto il proprio apice il giorno prima, il sostizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno. Da notare che sempre nel nord Europa, in Germania, l'abete era il signore incontrastato delle foreste montane, il cui nome era comune con la quercia, entrambi si chiamavano tanne. Questa stranezza è dovuta al fatto che la quercia era il re degli alberi di pianura, così come l'abete lo era su quelli montani. Anche in Svizzera e in Tirolo troviamo l'abete come signore degli alberi, si credeva che il genio della foresta dimorasse all'interno di un vecchio esemplare secolare, motivo per cui tali monumenti naturali erano rispettati dei boscaioli e non venivano abbattuti. L'associazione tra l'abete e femminile la troviamo anche in Polonia, dove di Svizzera una sorta di diana che vaga per i boschi, risiedeva anch'essa all'interno di un abete. Un po' in tutta Europa troviamo riferimenti al culto dell'abete. Nel museo di Newcastle vi è un altare romano-britannico dedicato alle madri, con l'incisione di una pigna d'abete all'interno di un triangolo. Sia nei Perinei e in Provenza sono stati ritrovati altari con incisi, raffigurazioni e diabeti. La venerazione di questo grande albero era talmente forte che proseguì anche sotto il cristianesimo e fece di tutto per sradicare tale culto. A testimonianza di ciò possiamo portare l'esempio del vescovo di Tours, il quale dopo aver abbattuto un tempio pagano senza trovare ostacoli si trovò di fronte alla ribellione del popolo quando cercò di abbattere l'abete sacro lì vicino. Sempre nel Medioevo, soprattutto ad Anover, vi era l'usanza del martedì grasso di battere le moglie con rami di abete al fine di renderle fertili, evidente l'eredità dell'antico legame tra l'abete, fertilità e nascita. La scelta cristiana di fissare il Natale, giorno di nascita del bambino divino, non è certo casuale. È il giorno in cui in tutte le culture antiche nasceva il bambino divino il quale era rappresentato dall'abete. Per questo motivo che quest'albero è tutt'oggi simbolo del Natale, i cui adobbi sono una reminescenza degli antichi adobbi delle feste solstiziali. L'abete è legato a Saturno, influenzando la sua crescita, inibendola, contraendo la sostanza, indurendo la forma, lo stesso ciclo di Saturno. Trent'anni corrispondono all'età in cui l'abete diventa sessualmente maturo. La sua caratteristica di resistenza ai freddi anche estremi è di arrampicarsi ad altitudini dove nessun albero arriva. Lo lega in modo indiscutibile al sacro e molte culture antiche pensavano che il divino si manifestasse dall'alto verso il basso. Anche nella mitologia europea gli dèi greci e gli asi teutonici dimoravano in luoghi elevati, così come altre culture extraeuropee costringono i loro centri sacri ad altezze considerevoli. Si pensi ai Machu Picchu degli Inca o alle montagne sacre dei nativi americani, degli Himalaiani e gli aborigini australiani. In molti casi in questi luoghi sacri sono presenti gli abeti che con la loro tipica forma e dritta come una lancia e le altezze che raggiungono sono vere e proprie antenne. Ecco, questa è un po' la storia dell'abete. Magari qualcuno già le conosceva, comunque è bene ogni tanto riproporre... cosa si riferiscono appunto i simboli che in realtà sono così molto più antichi e hanno un rettaggio enorme insomma che poi sono stati sfruttati come sempre da altre religioni che non avevano questa simbologia e non hanno la ricchezza, la profondità, l'enormità di un campo mitologico così ampio. Giusto. Ecco, adesso volevo così leggervi anche se non ho preparato un vero premesso sul vischio però è molto importante che magari qualcuno venga a conoscenza e voi sapete che è una cosa molto sgradita il ramocello di vischio magari metterlo vicino alla porta di casa però il vischio è una pianta è un parassita che vive a spese di un certo numero di alberi tipo il pioppo il melo il tiglio e la quercia ecco poi dovete sapere che l'impiego medicinale della pianta risale a molto tempo fa e i celti consideravano il vischio della quercia in qualcosa di sacro e gli altri vischi in generale dei toccasana così come per numerose piante l'impiego empirico è stato confermato da studi clinici in particolare le proprietà ipotensive diuretiche e antipasmodiche ai nostri giorni sono in corso anche delle prove cliniche su certi principi attivi del vischio le viscotossine che danno prove in laboratorio degli effetti anticancerogeni così da giustificare in parte l'impiego in Germania e in Svizzera di tale pianta nel quadro della medicina detto antroposofico negli stati precancerogeni e nel trattamento pre e post operatorio dei tumori ecco come vedete oltre avere essere un porta fortuna il vischio è anche una pianta con delle grandissime proprietà terapeutiche in special modo contro i tumori a parte aver ucciso Balder ma comunque questo è un problema secondario ho già ricordato appunto che nella famosa inizio del Ragnarocco c'è l'uccisione di Balder figlio di Odino che viene fatto tramite un ramoscello di vischio in quanto Balder è invulnerabile e Loki prende lancia contro di lui un ramoscello di vischio che lo uccide e di conseguenza per recuperare questo danno diventa una pianta appunto medicinale che permette di curare le cose ecco vedi allora adesso voglio parlare di una festa si chiama Imbolc guarda caso proprio come il nome del pub domani sera ci saranno letteralmente Imbolc che è una festa celtica che si festeggia adesso significa letteralmente latte di pecora latte di pecora ed è celebrata in onore della dea Briga trasformata poi dalla chiesa in Santa Brigita e si festeggia il primo febbraio si tratta di una festa prevalentemente femminile incessata sulla nascita degli agnelli e sulla luce primaverile che notostante il freddo ancora intenso cresce di giorno in giorno quasi incoraggiata dalle corone di candele ritualmente portate in capo dalle donne e la grande festa del ritorno della luce questo giorno celebrato da sempre e ovunque è noto con nomi diversi presso i vari popoli di ogni paese scusate scusate ma è un po' di malattia di stagione allora Brigantia o Matirona ascolta la preghiera delle donne della terra dei cieli tu sei molto saggia la molto pura colui che comprende la tua esistenza comprende il mistero delle madri imbolk pronunciata imolk in irlandese letteralmente in the belly of the mother nel ventre della madre terra scusa Ettore abbiamo un'ascoltatrice poi che mandiamo in diretta la mandiamo in diretta parla pure si anche adesso non so che è possibile si vai sei in diretta parla pure parla pure sei in diretta mi senti? come? mi senti adesso? no adesso mi senti? pronto? mi senti? incestata sulla mascia degli agnelli e sulla luce pre niente pronto? si? mi senti adesso? si 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 ecco vai pure parla pure sei in diretta forse hai la radio è un po' alto si sei in diretta parla pure non sento no perché purtroppo abbiamo un mi senti adesso? mi senti per telefono? parla per telefono si ok adesso sento un po' ecco no perché tu sei su internet la scommetto si si e ora vi consiglio abbiamo un ritardo di qualche minuto secondo parla pure dove ti sentiamo? ah ho capito perfetto niente io ho appena ascoltato la quella quella piccola quell'intervento sul vischio e ho letto recentemente che appunto il fatto di baciarsi sotto il vischio praticamente viene giù dalla dalla tradizione mi sembra greca se non sbaglio dove praticamente si credeva che il vischio fosse lo sperma degli dei e quindi baciarsi al di sotto di esso era una specie di porta fortuna insomma di fertilità eccetera questa mi sembra una cosa molto carina si bella molto bella si che però chiaramente non non si sa insomma no no non è che non si sappia spetta che però la ascoltatrice non ti ascolta dalla radio ti ascolta da internet no no stavo dicendo da Ettore che purtroppo lei ti passo Ettore perché il mio problema è appunto che tu stai ascoltando da internet perciò hai un ritardo di qualche secondo ti passo Ettore si fai Ettore perché l'ascoltatrice purtroppo noi stiamo trasmendo su internet ma con un ritardo di qualche secondo si mi senti pronto si 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 ecco ecco ehm si però devi stare vicino al microfono se no gli ascoltatori non si non mi hai detto come ti chiami ah scusa hai ragione e da dove chiami allora io sono Monica e chiamo da vicino Saronno però ecco significa che allora la nostra trasmissione è interessa anche al di fuori del Veneto no comunque volevo dire quello che hai detto è giusto è vero e fa parte anche un po' della simbologia celtica come hai sentito che avevo fatto una premessa non avevo portato una relazione molto sintetica sul vischio però quello che hai detto è vero baciarci sotto il vischio fa parte anche delle tradizioni nordiche però anche del nord Italia ah ecco anche del nord Italia sì sì anche del nord Italia sì ho capito perfetto poi tra l'altro sempre riguarda quello che appunto avete appena detto sulla nascita di Cristo eccetera giusto stamattina ho letto un un articolo che riguarda proprio la la comparazione anzi diciamo un po' magari è brutto dirlo però la copiatura della nascita di Cristo con la nascita di Horus dove praticamente ci sono delle parti identiche del racconto biblico soltanto che chiaro qua adesso magari andiamo non so in particolare un po' più non so se è il caso di parlarne eccetera comunque siamo in fascia protetta di lì di lì che siamo in fascia protetta siamo in fascia protetta sì 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 no vabbè ecco insomma volevo un attimino parlare anche un po' con voi eccetera ah una cosa che appunto non ho detto prima è che vi io ho saputo stamattina che esiste questa trasmissione sono disse tramite una newsletter a cui si è scritta che è Wicca News e quindi si è parlato appunto di dell'amico Giampatti perciò ecco insomma volevo farvi complimenti perché non pensavo che esistesse una cosa così in Italia e di dieci anni che esiste questa trasmissione magari faccio brutta figura però effettivamente grazie comunque Francesco ti ringrazia no non sarebbe va bene vi ringrazio grazie a te ciao arrivederci ciao no perché Ettore non lo sa ma noi abbiamo fatto parecchio pubblicità il suo intervento radiofonico dobbiamo ringraziare l'amico Alessandro perché purtroppo in questo momento Radio Gama 5 non trasmette su internet ma stiamo trasmettendo noi tramite il nostro server dobbiamo ringraziare Alessandro che sta facendo un lavoro veramente enorme proprio perché questo server appunto sta funzionando egregiamente fa un lavoro enorme insomma perciò in tutto il mondo ti stanno ascoltando tramite internet dovresti essere contento allora ringraziamo Alessandro ringraziamo Alessandro per il lavoro enorme che sta facendo va bene è che è molto importante comunque allora ritorniamo si sarebbe un'altra telefonata che dici andiamo andiamo si pronto pronto ciao Gianpaolo scusa che abbasso un attimo ciao ciao Gianpaolo è più vicino a noi ciao stranamente mi sono reso conto da ignorante perché sto leggendo un po' sulla favola di Cristo che con tutto quello che si può dire però mi ha portato a conoscenza che siete stati zerubati di tutto ma non solo dei tempi sia che della mitologia ma di tutta la storia l'hanno trasformata completamente in monoteismo ma è tutta pagana da come io la interpreto hanno rubato tutto ma veramente rimango scandalizzato io che sono agnostico che sono un povero mona qualsiasi ma rimango veramente allibito con quale coraggio hanno mascherato tutto e trasformato tutto si perché sai quando uno ha un dio creatore non ha fantasia mamma che roba cioè di conseguenza deve derubare gli altri prima li ammazza li fa cancellare li fa sparire e una volta che li ha cancellati spariti si quello che li fa comodo lo ricicla non pensavo fino a questo punto non pensavo che per duemila anni io che non mi sono mai interessato in queste cose però per duemila anni pensandoci sopra loro hanno lucrato su questa meschineria di prendere e rubare tutto perché pazienza i tempi ma tutta la storia l'hanno trasformata in monoteismo ma è vario che un storico ha detto che il cristianesimo è stato atroce perché ha trasformato la preistoria dell'umanità in preistoria del cristianesimo ma robe pazzesche tutto ma di tutti da Zara a Tustra hanno rubato tutto 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 lo scopo è quello di rubare la vita alle persone e qualsiasi cosa che possa servire io non dico altro lascio il discorso aperto perché di più non so dire grazie comunque scusa dell'intervento no figota hai fatto benissimo ciao 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 ecco allora veniamo a noi madre terra è chiamata anche oimelk o brigantia o ambivolcios in gallico antico che significa attorno all'evatoio in antico celtico è la prima delle tre feste celtiche dedicata alla primavera essendo le altre Alban Heiler 21 marzo Beltane primo maggio e si festeggia il primo e il secondo giorno di febbraio Ettore se vuoi sarebbe un'altra telefonata e allora significa che va bene andiamo via sì pronto sì ciao buonasera eh Berto da Padola eh io invece sono totalmente in senso di quello che ho sentito eh sento mi sento non è nemmeno infeso perché eppure essendo un cristiano ortodosso sì non mi sento assolutamente intaccato da quello che ho sentito finora nessuno ti vuole intaccato lo rispetto non lo condivido assolutamente nessuno ti credi di condividere qualcosa no ma il fatto è che proprio noi non avevamo nessuna verità da venderti non avevamo nessuna verità da portare no no neanche l'ho chiesto la verità nella verità sì proprio proprio in questo senso però mi sembra altresì poco rispettoso nei riguardi di chi crede se ti dà fastidio la trasmissione vai su Radio Maria o su una verità no no non ci vado su Radio Maria ma allora di conseguenza se tu all'intervieni noi siamo liberi di parlare come vogliamo non affondiamo nessuno ho detto mi sembra ti sembra ti stai sbagliando allora allora appurarsi se tu ascolti bene le nostre parole noi non abbiamo mai offeso nessuno ma io ho detto potrebbe non l'ho detto voi prima di avere prima ti chiarisci il tuo dubbio e poi quando te lo sei chiesto ci chiama va bene non è quello il fatto mi sembra che ti stai offendendo invece del fatto che qualcuno sia in dissenso assolutamente noi non siamo in dissenso scusa no io ad esempio ho detto potrebbe l'ho detto se tu hai tanti dubbi prima che riesci il dubbio ma la verità la verità è sempre nel dubbio secondo me noi non abbiamo verità perciò non abbiamo dubbi no no ma guarda che io assolutamente sto accortando le vostre parole mi ho detto vi permetto di esprimere voi siete in o io sono in mi permetto di esprimere le mie perplessità ma siccome tu ti senti colpito no no io non mi sento colpito l'ho detto all'inizio poc'anzi ho detto guarda io non mi sento offeso perché appunto la mia fede non è intaccata se le persone malate che hanno problemi vanno sempre comprese bisogna sempre essere vicini se tu hai questo disagio a noi ci dispiace però possiamo non abbiamo il trattamento sanitario io mi ho detto ascolta Radio Maria Gira Canale perché sono libero di ascoltare chi non è d'accordo con me se tu ti ci chiami perché ti dici che non abbiamo offeso qualcuno noi non abbiamo offeso nessuno potrebbe risultare non voi il signore che ha trattato poc'anzi perché nessuno di noi ha una persona che ha letto le cose che conosce le cose e giustamente ha detto delle cose scontatissime e tutti i miliardi di cristiani che sono passati non leggono nulla purtroppo i cristiani che sono passati hanno letto sul proprio libro e li impotono cagliati nessun problema ci dispiace ti facciamo gli auguri si illuminati i miliardi di cristiani che sono venuti prima di noi sono tutti quanti stessi tutti quanti all'era non ci diceva un giorno ci becchiamo a mangiare la merda per come si fanno a sbagliare i miliardi di mosche perciò va bene va bene andiamo avanti prosegui pure in democrazia siamo qui per ascoltare qualsiasi cosa è andato in diretta nessuno gli ha impetto di parlare esatto anche perché noi non stiamo offendendo nessuno e la verità è vera non ce l'abbiamo in mano generalmente la festa cominciava il 31 gennaio poiché per i celti i giorni cominciavano dalla notte vedi anche Samain il 31 ottobre ed aveva il suo culmine probabilmente il 2 febbraio quando il giorno diviene visibilmente più lungo e la luce comincia a vincere la battaglia contro le tenebre in bulk infatti si colloca a metà tra la notte più lunga dell'anno del sostizio d'inverno 21 dicembre e l'equinozio di primavera 21 marzo quando la notte è lunga come il giorno l'inverno celebra ancora il suo trionfo i corsi d'acqua i laghi le fontane sono jacciati i prati gli alberi sono ricoperti di brina la natura scintilla sotto un manto di freddo che pare congelare la vita la prima delle tre celebrazioni della primavera poiché che essa ha luogo al momento della prima comparsa dei bucaneve e delle prime avvisaglie del disgelo e della scomparsa delle scorie dell'inverno il sole bambino nato dalle profondità dell'inverno solleva il suo volto e la terra è toccata dei primi raggi di calore il nome gaelico sembra riferirsi al latte di pecora imbol che score quando nascono gli agnelli proprio in questo periodo dell'anno questa festa era dedicata alla dea brigit figlia del dio buono il dagda brigantia figlia di dagov devos la dea dei poeti dei guaritori delle elevatrici e alle forze femminili presenti in natura e cadeva nel mese ogam del salice l'albero femminile per eccellenza essendo la dea brigit brigit bride brigida in irlanda e parti della scozia signora della poesia e anche la festività dei bardi e delle competizioni poetiche la festa di imbol viene trasformata dal cristianesimo nella vigilia della candelora il momento della presentazione del cristo al tempio consacrata alla vergine maria e a santa brigida in galles la festa viene chiamata g with the fire festa di maria oppure nell'alternativa più recente giudin for win festa della vergine anche se alcuni druidi perfino i pagani utilizzavano il termine candelora anche se imbol era una festa della primavera le condizioni atmosferiche specialmente nella terra di celtia non erano ancora tra le più favorevoli per festeggiare all'aperto perciò la sacralità di omeilk veniva vissuta particolarmente in famiglia con ragazzi e ragazze che intonavano canzoni e preghiere alla dea brigid era anche la festa delle nascite non solo degli agnelli ma anche tra gli umani in quanto nove mesi prima tra gli eccitanti fuochi di beltain le copie usavano salutare l'arrivo dell'estate per i druidi di ieri e di oggi la sacra festa è in onore della donna ed il rito praticato ancora oggi dai gruppi druidici è particolarmente gentile bello garbato e in tessuto di poesia un rituale adatto ad imbol consiste nel prendere una candela bianca e piantarla in un calderone pieno di terra oppure in mesela in un pieno d'acqua che simboleggiano il corpo della dea o le acque dell'utero femminile oppure si può onorare la dea madre con otto candele che immergono dall'acqua al centro del cerchio della cerimonia una volta accesa la candela si medita e si ringraziano le nostre madri e le madri delle nostre madri questa è anche la festività dell'anno celtico adatta alla visualizzazione dei nostri progetti dei nostri sogni ancora astratti e avvolti nella speranza le candone vanno infuse di amore sogni preghiere per i celti l'albero protettore del giorno dedicato ad imbol era la betulla che era sacro alla dea brigid ettore se vuoi abbiamo una telefonata bene sei pronto niente l'ascoltatore è caduta niente eh significa che si beh ricordo il numero di telefoni 049 700 700 049 700 838 come vedi anche internet funziona e di conseguenza è positivo sai che la radio riesca ad arrivare in tutto il mondo questo è molto bello anche perché cosa vuoi sono così tanto pochi gli spazi in cui poi si hanno a disposizione per portare a conoscenza magari cose che altri sapranno ma penso che molti e molti non sanno poi d'altronde io potrei dare anche l'indirizzo internet dove si può tirare fuori queste cose oppure chi magari in loco qua gli può interessare poi io queste carte gliele lascio qua in radio o sennò domani domani sera oppure domani sera se c'è qualcuno che viene alla festa di Inbolk a Montegrotto vede che c'è un altro ascoltatore si pronto pronto si si in diretta parla pure mi sentite si sono Daniela ecco niente volevo solo sapere da voi il significato della croce celtica che ho visto siccome sono stati in Irlanda ho visto molti posti anche nei reperti archeologici così presente questa croce ecco vi ascolto per radio grazie bene grazie ciao croce celtica puoi spiegare a te che sei un celta beh la croce celtica non deriva precisamente dai celti ma è una cosa che è stato poi con è stato San Patrizio praticamente sì logicamente è stata una ripresa anche di antiche mitologie perché è stata l'evoluzione di ruote solari nel senso tanto per dire anche il famoso svastica poi rigirato diventava una croce celtica perciò è sempre un movimento cioè i quattro angoli del mondo con un centro con un asse l'icadresil l'asse del mondo l'albero della vita è un punto di fermo però c'è anche un movimento attorno ecco vedi il trischel o il trischel esatto è sempre un'evoluzione cioè di queste simbologie appunto solare e circolare sì pronto pronto sì salve Moini da Roma sì volevo solamente pervenire per dire una cosa al signore che ha telefonato prima che ho sentito che ha detto che i cristiani sono arrivati prima di noi volevo solamente dirvi che non è questione di religione di storia della religione basta prendere una storia del teatro qualsiasi un libro qualsiasi che riguardi la storia del teatro per vedere qual è la storia proprio non l'opinione nostra tutto qua solo un consiglio grazie ciao 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 beh vedi anche Roma beh io sono scontento con te Francesco e ringraziamo sui palessandro poi il grande lavoro che c'è esatto spero che c'è un'altra telefonata sì pronto ciao Gianluca da Vicenza scusa una domanda io tornando a casa ho visto tutti i fuochi che parlano di pane e vino per il giorno della Befana diciamo hanno un qualche significato e poi volevo chiarire la cosa della croce celtica sono stato a studiare inglese in Irlanda quest'estate e hanno chiesto il professore così se sapevamo da cosa venisse la croce celtica io ho detto l'ho indovinato ho detto hanno messo una croce dentro nel sole perché il sole era dorato dai cani e quindi ci hanno messo la croce dentro e la gente andava l'ho indovinato perché hanno fatto la stessa cosa in Sud America hanno preso San Francesco e gli hanno messo vicino il serpente se tu pensi lo stensorio se quelli lo mettono l'ostia che ha formato il sole siccome c'era il culto del sole cosa hanno fatto hanno preso il sole l'hanno rifiurato e ci hanno messo l'ostia in realtà deve avere una continuità in questo senso mi hai sentito? sì sì lo sento a tutti quanti i raggi del sole proprio era perché c'era il culto del sole ciò che da tutti hanno inserito l'ostia all'interno per richiamare per il discorso del pane e lì la ritualità del fuoco è una ritualità di passaggio ed è di auspicio d'attronde già nella cultura contadina veneta si diceva se il fuoco andava da una certa parte portava fecondità e benessere se dall'altra parte era un anno magro però il rituale del passaggio del fuoco è il rituale di libertà perché anche attualmente in Iran la primavera viene festeggiata appunto tramite dei fuochi cioè proprio è un culto diciamo mondiale che il fuoco rappresenta un passaggio rappresenta un simbolo rappresenta una porta soprattutto in legame con i sostizi e gli equinozi perciò il fuoco è un accendere qualcosa dell'oscurità nel momento tipo del solito d'inverno o dell'epifania che solo comincia ad allungarsi è quasi un legame simbiotico armonioso tra quello che avviene nella natura e quello che l'uomo può fare perciò se tu conti un retaggio dell'utilizzo del simbolo del fuoco e dei falò non dico nel cristianesimo il fuoco perché ci hanno dato fuoco a tanti di noi non sono stati morti i luoghi dell'intusizione allora un'ultima domanda poi vi saluto cosa sopravvive secondo voi nell'Italia d'oggi dell'antico paganesimo oltre i fuochi della Befana moltissime cose ti posso fare un piccolo particolare a me è successo di leggere su un testo dell'istroconeria francese di alcuni riti per mantenere le sorgenti viaggiamo in alcune valli dell'alto vicentino ho visto questi riti fatti da gente del posto che questi libri non li aveva letti incredibile bene allora buona serata grazie ciao grazie bene possiamo proseguire sì comunque diciamo rimane moltissimo tutto quello che abbiamo attorno tante volte anche le feste patronali le feste dei patroni sono retaggi di proprio di feste del luogo alcuni santi sono in realtà geni del luogo tramutati in santi proprio perché non potrebbero essere stirpati siccome non erano tipo come Giove che era più difficile riciclare un Giove un santo locale copriva ad esempio un qualche genio del luogo infatti io volevo fare una promessa su questa cosa era di una settimana fa mi sembra che per mano di una figura dell'arpa sembrava che a Padova avesse proibito di bruciare il falò in parte della valle no? sì ecco perché secondo questa figura le ceneri sottili inquinava l'aria no? però io mi ero fatto un pensiero che secondo me non era propriamente questo e che probabilmente a qualche figura ci voglia togliere proprio qualsiasi tipo di tradizione ma se tu pensi che il vescovo di Como Maggiolini è arrivato al punto con i bambini presenti a dire ai bambini Babbo Natale non esiste esiste solo Gesù e più la Beffana è anche brutta in Basilica a Como durante una orazione fatta con i bambini cioè renti conto con i bambini potresti anche fingere di accettare una cosa loro perché da trono appartiene alla loro realtà perché gli devi fare questo shock l'ha fatto all'interno della sua Basilica detto questo qua Babbo Natale non esiste esiste soltanto Gesù Bambino ecco ma se poi ci tolgono anche la gioia voglio dire di vederli farlo bruciare ma che fastidio ti danno che un bambino cade in Babbo Natale ecco che fastidio ti dà a me nessuno insomma esatto allora riconduciamo a noi per i Celti l'albero protettore del giorno dedicato ad Inbol era la Betula che era sacro alla dea Brigitte o anche Brigida con Samain è la festa più importante in queste due feste si pensava che le porte del regno degli spiriti e il regno delle fate fossero aperte ma è certo che se Samain era la festa dei morti Beltane era quella delle fate e dei foletti in quanto mentre Samain rappresenta l'inizio dell'inverno e la metta oscura dell'anno e invece Beltane rappresenta l'inizio dell'estate e della bella stagione e la terza delle feste celtiche dedicata alla primavera dopo Imbolc e Eostara letteralmente tradotto dal gaelico Beltane significa i fuochi di Bel questa festa infatti viene tenuta in onore del dio Bel Belenos divinità del fuoco e della luce e attraverso il fuoco rigeneratore acceso se vuoi perché abbiamo pochi minuti c'è un ascoltatore allora ascoltiamolo si pronto si ciao ciao mi riferisco a non che è appena dato sui bambini che mi ha detto che il papo natale non esiste si beh se si arriva a credere a uno che è carne sull'acqua che è morto e dopo tre giorni è risuscitato e che una se sta incinta però se puoi credere che è anche il papo natale esatto hai ragione perfetto concordo con te come si è giusto è giusto credere il papo natale perché si ti 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 fa meno d'anno babo natale che Gesù bambino si aspetta mi senti mi senti mi senti si fa meno d'anno babo natale che Gesù bambino sì ma certamente ma 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 che ma che cosa che ha detto una roba del genere se da denuncia una roba del genere si in chiesa fai tacci di merda che non dice altro va bene sai questo l'hanno fatto e di conseguenza nessun po' direbbe denunciarli per abuso della credulità popolare sì beh questo l'ha fatto Cascioli va bene grazie ciao l'ascoltatore giustamente era un po' arrabbiato si sentiva anche degli epitaffi e abbiamo poco tempo sì io ho tre minuti ecco e niente allora ecco probabilmente la trasmissione è stata interessante perché guarda caso mai come questa volta gli radioascoltatori sono intervenuti io adesso che posso dire spero di avere ancora qualche spazio in radio per magari parlare anche di altre cose e quello che posso dire è che comunque io auspico che i signori culturati gli assessori alla cultura lo so che è un momento molto difficile economico che non ci sono soldi però se noi abbiamo così in mente di fare una festa celtica a Padova se magari c'è qualcuno che si propone o si proponesse anche a darci una mano magari può mettersi in contatto con Francesco che poi Francesco si mette in contatto o domani sera oppure domani sera se venite a Montegrotto al pub Inbolco magari la possiamo parlare e così mettere un piano programmatico per quest'estate insomma io appunto ricordo perché siamo a pochi minuti io ricordo appunto che domani sera sia io sia Ettore siamo a Montegrotto Terme al pub Inbolco alle ore 21 e di conseguenza è per il si si tranquillamente si chiama Venetian Pagan Motto è praticamente un incontro periodico dell'area Vica Pagana e Celtica in senso lato non è una conferenza ci troviamo in questo pub c'è un nostro tavolo per noi riservato ci conosciamo chiacchieremo e ognuno ha la possibilità di scambiarsi delle informazioni perciò l'appuntamento è a Montegrotto alle ore 21 pub Inbolc ecco io volevo lasciare magari il mio numero di cellulare se qualcuno in zona Padova o provincia oppure anche Venezia vuole contattarmi è il 335 5297 743 bene ormai è finito salutiamo gli ascoltatori chieri Itia vi porti tanta salute e tanta abbondanza ciao a tutti noi ci sentiamo giovedì prossimo dalle ore 15 alle ore 16 30 e dalle 19 alle 20 ciao a tutti comunque su internet trovate l'archivio delle trasmissioni e tutto il materiale che vi può servire ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti